Taglio del nastro per la riapertura del centro di raccolta rifiuti di Roseto degli Abruzzi. L'impianto sito nei pressi dell'autoporto era stato sequestrato nel 2017 dopo indagini della Guardia di Finanza per fondo e recinzioni non conformi. Di sequestrato ad agosto del 2022 torna a disposizione della comunità rosetana. Ho ringraziato ovviamente i sindaci che mi hanno preceduto, chi ha avviato questo centro, il sindaco Pavone, e chi ha subito un po' le conseguenze del sequestro, il sindaco di Girolmo, ma in ogni caso ho ringraziato la mia amministrazione che in questo anno e mezzo, in questi due anni appunto in cui abbiamo lavorato per la riapertura è stata compatta, coesa, ha dato importanti obiettivi al settore dell'ambiente, la direttrice del contratto, l'architetto mantenuto insieme all'additore Ecologia hanno dimostrato quanto sia importante e oggi penso che è un momento storico per la città, per i cittadini, per i turisti che vivono nella città, per i commercianti, ma anche per i giovani che devono essere un volano importante nel cambio culturale, nell'approccio all'ambiente, nell'approccio allo smaltimento dei rifiuti che deve diventare una risorsa, ma soprattutto nel rispetto di quello che è la libertà altrui. Il centro di raccolta, gestito dalla Diodoro Ecologia, rappresenta un utile servizio per i cittadini che muniti di carta d'identità e con ultima bolletta della tari pagata possono recarsi a conferire i rifiuti ingombranti. Questo è un momento importante perché i cittadini liberamente dal lunedì al sabato, scusate, negli orari previsti che sono conguli sia mattino che pomeriggio, si alterneranno le giornate, potranno venire e potranno conferire direttamente il loro rifiuto. Rifiuto della tipologia di mobili, rifiuto della tipologia delle potature, dei televisori, dei frigoriferi, delle piccole apparecchiature dei RAE, delle lampade dei Neon e di quant'altro. Per poter accedere naturalmente sia l'attività che i cittadini residenti devono avere l'utenza tari e portare un documento. L'importante sarà la quantità che rimarrà la stessa di quella che si raccoglieva porta a porta. Poi naturalmente per chi ha un'esigenza particolare ci si accorda però i quantitativi sono stabiliti dalla norma e quindi non è che ce lo inventiamo noi o se l'ha inventato il Comune.